Castiglion Fiorentino deve tornare al voto perché Luigi Bittoni, attuale sindaco eletto nel 2012, è stato dichiarato ineleggibile dalla Cassazione. L'amministrazione comunale, intanto in un comunicato stampa, esprime la propria vincinanza a Bittoni per questo esito. Nella convinzione si legge della bontà del lavoro che in questi mesi Bittoni prima e Fabianelli poi, con il supporto di Giunta e Gruppo Consigliare di maggioranza, sono stati in grado di attuare con serietà, senso di responsabilità e spirito di servizio. Questa amministrazione, così come previsto a norma di legge, proseguirà nel proprio impegno di risanamento. Senza farsi trascinare, si legge in una irresponsabile e rissosa campagna elettorale. E intanto si dicono entusiasti Luca Conti, uno degli otto firmatari dell'esposto su di ineleggibilità di Bittoni, e Claudio Morganti, europarlamentare indipendente. Oggi ha detto, ha vinto la vera politica, ora la parola passi ai cittadini. I consiglieri regionali di nuovo centrodestra, Antonio Gambetta Vianne e Gianluca Lazzeri, ci tengono a ringraziare anche l'avvocato Patrizia Guadagno. E anche grazie a lei hanno detto, se presto Castiglioni tornerà alle elezioni. Rimane la mano in bocca, dichiara invece il diretto interessato Luigi Bittoni, dalle pagine di Arezzo Notizie.it. È un caso che non ha precedente in Italia. In cinque righe di sentenza si stabilisce che l'ente Serri Stori è dipendente dal comune di Castiglione Fiorentino e per questo io sono ineleggibile. Si torna a votare, forse in primavera. Ora, dice ancora, devo sbollire ma penso di potermi ricandidare.